Siamo nel dopogara mister Locatelli, un buon pareggio, chiaramente le credenziali erano quelle di un cenate sotto che è venuto per portarsi a casa la quinta vittoria consecutiva però bene appunto la formazione d'orbite nei primi 20 minuti e al ventesimo infatti però c'è la vostra prima occasione con quel tiro di pesenti Luca. Devo dire che per una piccola parte di gara siamo stati anche capaci di tenere bene il campo, dopo siamo un attimino calati, abbiamo perso un attimo le distanze, noi siamo sempre una squadra nuova. Giovanissimo oltretutto Locatelli, abbiamo visto la distinta, più anziano diciamola così, Locatelli, dobbiamo fare anche i complimenti per la scelta della società. Sì, però diciamo che se il cenate sta in quella posizione l'Almè può anche ambire a quella posizione vedendo che non l'abbiamo sfigurato. E siamo al trentesimo, una sua valutazione Locatelli è il gol in fuorigioco di Cafforio annullato, forse c'era un pallo in attacco, la sua valutazione Locatelli? Ci sta, insomma… Siamo al trentesimo del primo tempo, eh? Sì, però dico, ormai l'arbitro vede le cose più vicine, quindi è giusto così, dai. E poi oltretutto le due occasioni finali di Dolci si chiude nel primo tempo al trentaduesimo e al trentacinquesimo altro tiro insidioso, poco lontano dalla base del palo anche lì. Sì, infatti abbiamo avuto una buona parte di gioco dove siamo riusciti ad entrare più nella loro difesa e lì bisognava sfruttare meglio l'occasione, capitate. E il secondo tempo Locatelli? Poco da notare perché all'occasione si è giocato a tutto campo, forse ultimamente poi nella parte finale squadre allungatissime, però dell'occasione sia una parte all'altra, insomma ci sono state ben poco, forse quel fallo di Ila che insomma i tifosi ospiti reclamavano un calcio di rigore, su di vita ha lanciato a rete, chiudeva avanti la formazione ospite con Locatelli, però alla fine delle occasioni nella seconda fase di gioco si contano davvero sul di vita di una mano, pochissime i Locatelli. Sì, è vero, l'unica difficoltà è che noi non abbiamo tenuto bene le distanze e quindi gli concedevamo il lancio lungo e questo è avvenuto per tutta la seconda parte. Quindi punto importantissimo, però con dieci punti si ritorna in zona play out. Siamo in cinque squadre, 4-5 a dieci punti, quindi diciamo che siamo tutte dentro lì e più che guardare lì mi piace guardare la classifica davanti, oggi qualcuno lì ha perso e diciamo che questo punto ha fatto in modo di riaccorciare un pochino la distanza. Quindi la Ghiota è occasione, diciamo così, domenica prossima è uno scontro diretto con il Torre dei Roveri. Sì, non è il primo scontro diretto che facciamo, rimane il rammarico nelle due partite precedenti dove per colpa nostra abbiamo buttato via punti, però su questo abbiamo imparato un attimino le nostre spese, come ci si deve comportare. Dopo quattro vittorie consecutive si trova questo pareggio qui a Dalmè. Partita difficile, come comunque avevamo preventivato, loro squadra molto giovane ma molto organizzata, si è giocata una partita a livello, a un ritmo molto alto, come comunque ci aspettavamo e come sapevamo che loro giocavano. Sono una buona squadra, un'ottima squadra e quindi ci ha dato molto filo da torcere. Diciamo che ce l'aspettavamo comunque, ce l'aspettavamo perché è vero che sono giovani ma sono giovani di qualità, di conseguenza molto ben messi in capo, sì. E quasi tutto nel primo tempo, Marchesi. Quasi tutto nel primo tempo, poi andremo ad analizzare la seconda frazione di gioco, secondi 45 minuti, ventunesimo la prima occasione di vita. Quel tiro risultato era poco fuori, sulla destra di Ila e poi chiaramente si chiude qui il primo tempo dove avete dato buona determinazione, una buona intensità, una buona corsa. Voglia di far bene oltretutto, Marchesi, però Dalmè se l'è giocata, il pari ci sta, ci sta tutto però. Altro che il risultato sì, direi che è giusto per quello che si è visto in campo, più che giusto. Noi siamo partiti forse leggermente meglio, dove riuscivamo a trovare spazi sugli esterni, infatti ci sono state un paio di occasioni dove siamo andati sul fondo e siamo riusciti a mettere la palla dentro, dove appunto c'è stata l'occasione di vita che dovevamo sicuramente sfruttare meglio. Poi la partita diciamo che si è equilibrata, loro si sono sistemati, infatti non abbiamo più trovato spazi esterni e è stata una partita molto combattuta, a ritmo alto e comunque sì, il pareggio è più che giusto. E da esterni si parlava perrucchini, il nostro modo di vedere, e sull'esterno davvero sulla mancina ha fatto grandi cose, le buone giocate importanti, molto pericoloso, forse il più giocatore, forse quasi uno dei più offensivi, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Però andiamo a vedere il contatto alla fine della seconda frazione di gioco, appunto al 38esimo, contatto dubbio di Ila su di vita lanciato a rete. La sua valutazione Marchesi? Allora, dalla mia posizione era fuori area, chiaro, non era in area, però era falla, chiaro. Quindi detto questo, stop, l'arbitro l'ha vista così, non ci sono problemi e va bene così. Era comunque fuori area perché io ero proprio... Di conseguenza era fuori area, abbiamo visto bene la tribuna qua dal Mè, ma con questo pareggio vale un punto d'oro perché è agganciato il secondo posto al pari di Albino Gandino e Colognese e Marchesi. Allora, sì, siamo felicissimi di questo, ovviamente non ce l'aspettavamo, però noi dobbiamo continuare a, diciamo, allenarci, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita sempre come se fosse l'ultima. Non dobbiamo guardare la classifica troppo presto innanzitutto e poi non ci conviene ora guardare la classifica. Anche qui, andiamo alla seconda frazione del gioco, ci restiamo per questi episodi di analizzare molto bene il diciottesimo, graziato Giossi, che era già stato già munito, forse il direttore della gara non sarebbe sentito di mandarlo fuori a terreno di gioco qui dal Mè, poi subito sostituito da Facchinetti. Marchesi, la sua valutazione anche qui è stata subito tempestiva. Allora, sì, un po' nervosi. Alcuni, un paio di noi erano un po' nervosi oggi, probabilmente perché non riuscivamo a trovare gli spazi che in genere magari riusciamo a trovare. Quindi già ha munito Giossi, già è appunto, come stai dicendo tu, graziato per quel fallo quando ha perso palla. Ho preferito evitare il peggio, l'ho sostituito con Facchinetti, che è altrettanto un giocatore ottimo e sicuramente veriterebbe di giocare anche lui tra i primi in giù. Domenica prossima subito altra gara importantissima, la Gava Ernese, che è appena sopra la zona play-out, se non lo sbaglio, una gara ostica, arriverà lì da voi a giocarsela. Chiaramente ci potrebbero essere i tre punti a portata. Domanda classica che faccio sempre, perché con chi è in alto e chi è in basso, insomma, la differenza c'è sempre. Poi sarà il treno di gioco a stabilire. Ovvio, quello sempre. Mi importa casi i tre punti, Marchesi? Io non considero mai i tre punti alla portata, non esiste, perché tutte le partite sono già da giocare, perché tutte le squadre che abbiamo incontrato fino adesso sono tutte molto ben preparate, sono tutte ben attrezzate. Anche da neopromossa, insomma, diciamola tutta. Ma sì, ovvio, ovvio, noi sì, certo, noi siamo neopromossa e siamo una squadra che tanti giocatori che stanno giocando insieme da tanti anni, il gruppo è un buon gruppo e quindi noi diamo il massimo. Ogni partita che facciamo diamo il massimo. Niente alla portata, ogni partita da giocare al massimo e così faremo, cercheremo di fare.